c'è lo spectralizer che è fermo per qualche motivo ma tra un po' spero vivamente che parta da solo no sono altre bestie scusate ma io un attimo e la vedo eh ci sono eh ci sono live ora ci dovevo cliccà vai ci sono San Vivi eccoci eccoci San Vivi abbiamo passato troppo tempo a parlare di cazzate quando si doveva parlare di Smackdown allora dicevamo sì la scena finale praticamente polimone funziona polimone è stato licenziato è stato licenziato da Roman e voleva terminare con un concerto però è arrivato la bestia e chissà cosa succederà ora cioè voglio dire anzi sinceramente ora è croccante molto bello molto bello col final lì più che altro sai adesso se giustamente dici Paul è completamente dalla parte di Brock magari lo aiuterà anche a day one e invece c'è il vedi c'è il filino io raga vi ricordo che ti esce da qui e nel mentre al centro c'è scritto e non è che è un piano del capo è perché io vi ricordo Paul Heyman che aveva tirato addosso lo spray peperoncino a Roman può essere davvero il piano diabolico totale gli fa credere di essere dalla sua parte poi lo tradisce e poi si arriva a Verstelmania per il confronto tutti contro tutti vorrebbe essere interessante sicuramente qui c'è la puzza forte di trabocchetto e ti fanno pensare in un modo e poi magari succede un'altra cosa quindi questa incertezza proprio per via dell'effetto trabocchetto è bella mi piace e apprezzo il fatto che abbiano fatto il lavoro di licenziamento con il signor poleman come è che si parla di net genius wise man ah no wise man è come lo chiama Roman è giusto ma poi l'hai richiamato anche quando l'hai licenziato wise man thank you piangendo no se fossi in loro io terrei un attimo di ambiguità su questa sul punto poleman e lo farei fare gli farei fare l'arbitro speciale nel match special guest referee bello sarebbe cazzo e poi magari però ma si magari c'è il c'è il rigato il licenziato ma ti intimidisce in una maniera che non ha senso quindi magari ci pensi un po' due tre volte quattro cinque sei prima di fare lo scherzone da special referee capito solo che poleman è un po' anche perché diciamolo ragazzi non è che crediamo veramente che poleman lo venga scaricato così esatto cioè più che altro perché se fai un match normale tra i due rischi anche di mandarlo di nuovo in cacciara come l'ultima volta e non dico che è vero i fan che si ribellano perché tanto mi ne frega un cazzo però cioè io aggiungerei qualcos'altro o una stipulazione speciale sì anche una stipulazione speciale ma non l'opportunità appunto di avere il lago della bilancia poleman che tanto brock dice di essere poleman una pole match eh anche è stato memato da quando prima che tornasse lesnar quindi esatto facciamolo sto poleman una pole nella shark age esatto una shark age bella grossa perché poi comunque allora a parte che ho visto ora o go 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 post blackout bravissima è precisato mattino come sempre regia top è possibile quando le ricarico stanno bravissima e praticamente volevo di sono dimenticato niente ragazzi è proprio finito il caffè mi sta facendo l'effetto opposto un'altra volta sto diventando imbicilli aiuto oh no l'ultima volta non è andata bene no l'ultima volta penso dalle undici alle undici e mezzo ho iniziato a impazzire sono un'inocchio i neuroni si sono fusi esatto comunque stavo oh ecco l'ho trovato sembrerebbe che la campionessa femminile della ringofon la nostra amatissima ringofon che fortunatamente è morta meno male grazie no sto scherzando forse no allora rock c questa è una campionessa della ringofon sembrerebbe vicina alla ww ha fatto dei tryouts è la versione femminile di rock lì di naruto praticamente è già ha fatto dei tryouts con questo nome molto mimoso e io vi dirò è già stata messa sotto non contrata è già stata gittonata è già stata selezionata diciamo così dall'MLW per un match contro la figlia di uno dei fabulous free birds che era terry gordi mi sembra se non sbaglio che lei è miranda gordi quindi un match interessante per almeno per quanto mi riguarda la divisione dell'MLW c'è otto ragazze ma però prima la c'è è nata ora quindi però non è la divisione la line up di un money in the bank sì più o meno dai il bene è che c'è un tag team effettivo questa divisione femminile quindi diciamo che solo loro fanno i match tra di loro sì 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 loro sono campionesse di coppie della shimmer e mi sono detto ma che cazzo è la shimmer la shimmer è quella dove stava pure cosa come cazzo si chiama quella che si è suicidata ah no anachimura anachimura non è neanche ora mi sa che stardom sì sì lei sta potendo io dicevo dafni sì sì allora scusate ma è una cosa molto distorta questa non dire bistorta mi ferite di ricomanna c'è la madonna sì la storyline di Roman Reigns Lesnar e Poleman il triangolo più bello della storia è abbastanza storto sì ecco facciamo un altro trip al Tratarasso al Mane ci mettiamo dentro anche Poleman e diventa campione universale allora chi Poleman esatto Poleman a parte il meme di Roxy mi ha ancora fatto ridere quella stronzata di Roxy allora eccolo qui ho trovato l'altro topic che mi piaceva se ne parlava l'altra volta ma siamo addirittura d'arrivo perché il 20 dicembre sta per morire tra parentesi punto interrogativo la EIW su Sky Sport in Italia pensavo pensavo di fermarsi all'EIW per Audi fermarsi all'EIW è da scompire l'EIW è purtroppo per quello aspettiamo due anni che il passivo diventa insostenibile ok però a parte questo a parte questo io so poco e ve lo dicevo non c'è contatto ne ho risi quindi insomma so poco non sa un cazzo proprio nemmeno lui purello nemmeno Sorrisi non gli hanno detto niente però una cosa è certa le possibilità a quanto sappiamo adesso so poche di un rinnovo a lungo termine quindi di un annetto la mia ipotesi è questa rinnovano fino a Revolution rinnovano fino a Revolution e dagli ascolti delle puntate di questi 2-3 mesi decidono se prolungarlo ulteriormente o meno secondo me secondo me fino a Revolution lo rinnovano quindi 2-3 mesi poca roba e se le puntate hanno un incremento dello share bene se rimangono sugli stessi livelli pisciano basta e magari poi l'EIW se la potrà prendere qualcun altro la mia ipotesi primaria è Dazon perché è una piattaforma sportiva però se no in Italia dove può andare l'EIW questo è quello che mi chiedo rimane su Fight veramente c'è nessun commento in italiano in nessun modo se no come si può fare dove potrebbe andare di bello e io ho studiato un po' una donna da setaccio di possibili acquirenti e mi ha mi ha parso tra le possibili Prime Video ora Prime Video ha preso anche in esclusiva una partita di un'italiana Champions League io non lo sapevo che era in esclusiva l'ho scoperto a male in cuore quando ci stava Liverpool e non neanche la volevo vedere e poi Prime Video non ce l'avevo messo dove la stavo vedendo quindi me la sono presa al culo però dettagli e mi son detto beh sarebbe cazzo l'EIW su Prime Video poi però mi son detto ma se non la piglia nemmeno Dazon anche Dazon è giù per questi sport di nicchia ad esempio ora va bene tutto va bene che è bello perché ogni tanto l'ho visto anch'io ma i darts le freccette è uno sport di nicchia ragazzi cioè almeno se non sei in Gran Bretagna e lì è amatissimo io non penso che da altre parti sia così fenomenalmente conosciuto lo sport darts capito? quindi mi sono detto Dazon può farci pensare all'EIW quando gli scade su Sky ma prima bisogna vedere se Sky rinnoverà o meno e io ve lo ridico secondo me rinnova ma per pochissimi mesi per vedere se le puntate avranno un aumento o no in vista del prossimo pay per view se non ci sarà dopo l'Evolution pisciano se ne vanno basta e io penso sia un'idea molto buona anche perché Sky dopo che ha perso l'esclusiva della serie A ha solamente tre partite in cui esclusiva con Dazon da quest'anno ha perso un botto di abbonamenti quindi il resto dell'offerta gli altri sport che hai li devi massimizzare devi renderla vasta varia ampia capito? in wrestling è un bonus assurdo perché è una cosa che proprio ti varia completamente c'è un canale apposta per il wrestling che è considerato arena sport perché si svolge nelle arene come ad esempio il paddle per dirvi quindi dai Sky Sport Arena c'è un canale apposta il wrestling è di casa lì e infatti di solito va su Sky Sport Arena però la vedo dura un rinnovo almeno a lungo la trovo veramente dura ma si ma ma metterci Fandango in questa storyline visto che Fandango ha una triangoli Fandango io ho saputo doveva vincere Tito Intercontinentale l'ha detto lui anche io è un weirdo nel senso non pensavo ma forse nel 2013 quando ha battuto su Chris Jericho sempre molto meme ricordarlo aveva detto che la doveva vincere al posto di Curtis Axel ah il 2013 allora si nel sempre quel periodo lì e invece è andata la Cortisax quando nel 2013 era l'anno in cui ho iniziato a seguire Preston in modo serio e quando ha vinto Curtis Axel all'inizio era arrabbiato poi mi son detto il figlio di Mr. Perfect no vabbè è pazzesco avevo undici anni ero l'imbicillita lo so ancora ma un po' meno ma che ci interessi su Dazon pra invito a commentare nessuno nessuno in lingua originale Dazon tantissime cose in lingua originale ha soprattutto di quelle meno viste ad esempio i Timber Sports letteralmente sport di taglialegna non sto scherzando ci sono stati su Dazon una vergogna per quanto mi riguarda che abbiano avuto l'idea di pigliare quello e non magari la Ninja Pen Impact qualcosa di wrestling cazzo cioè però no sport dove si taglia la legna che ficata ragazzi pazzesca avvincente comunque su Prime Video forse già l'idea è diversa su Prime Video un commento in italiano è altamente probabile su Dazon non lo è su Dazon e comunque se mi devono mettere il commento in italiano e mi devono mettere un nome che tanto andava in voga nel wrestling web poco prima dell'apparato dell'AW su Sky il nostro amico SA ragazzi io mi taglio le palle e la guardo su Fight nel senso occhiolino quindi dai cioè nel senso torrisi e molla vabbè torrisi quando urla no non ci siamo molla sbaglia una mossa su una però a parte quello il resto ascoltabili si va a guardare su Fight no si guarda su Fight altrimenti molto bella sottile ottimo mezzo infartato però era quello lo scoffo va bene va bene apprezzato apprezzato grazie allora ah basta direi che non ci sono altre opzioni a parte Dazon in prime video se no doveva nuvolari ah no è morto stavo per dire io prima invece mi sono trattenuto allora dove la metti sul cielo sul cielo dai sul cielo è sempre Sky no le EW sul cielo con due settimane di differita impazzisco mamma mia Dynamite la domenica alle undici e mezzo ma di due settimane dopo venti giorni dopo se no sei Blaze sei vero Blaze è Blaze c'hai Tata in Games di The Rock eh è vero hanno fatto anche una serie della WB dei tesori scomparsi esatto ho registrato ma ho visto sulla prima puntata perché non mi andava non capisco se sia una serie tv a parte o made by WB quella non credo guardavo la CW scozzese non sapevo la CW davvero Enrico era su nuvolare la CW la insane che cazzo dici serio io sapevo ci stava la TNA tipo non c'è stata la TNA impact su nuvolari no da quanto so se vogliamo parlare di cose marce che sono state in televisione c'era da BW bottom live e afterburner su GXT io li guardavo io li guardavo io GXT io guardavo da un tempo c'è la Crossfire Ambitable Banzuco e Tachish Castle e Ale no Tachish Castle se no però Ninja Warrior Ambitable Banzuco ragazzi io mi trovo tantissima roba programmi della Madonna ora non sono più reperibili da nessuna parte o meglio Ambitable Banzuco c'è qualcosa su YouTube in lingua originale sottotitolato in inglese ma niente di che sì ma ti parlo di quando c'era Big Demo campione porca puttana Big Demo perché non lo sapesse Killian Dane quello della Sanity ah vedi cioè proprio a tempi arcani 2012 forse boh ah beh ora io sto andando a vedere TNA Nuvolari perché effettivamente mi interessava sapere se stava di una stronzata o meno perché Nuvolari brand warm up vada non penso sia quello onestamente madonna è vero Impact Wrestling su Nuvolari no 2016 2017 2017 è vero e lì ancora non c'era la rigidezza di NXT c'è NXT è come NXT UK adesso se c'hai uno che sta a fare in tuo roster ma lo vuole la ICW la Progress queste che ti sono vicino e ti aiutano anche a crescere i talenti gli lo mandi infatti la ICW scozzese lottano più o meno 5 ragazzi che si vedono sempre a NXT UK quindi beh allora e direi basta sta roba basta ne ho parlato abbastanza anche buonanotte ragazzi ciao no dove scappa quello io faccio il tutubi della situazione no vabbè pazzesco stavo cercando però una cosa è vero stanotte c'è Raw stanotte c'è Raw e non so che cosa succede hanno annunciato le cose aspetta che c'è Raw mi sembra di sì perché sì 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 ieri e l'altro e l'altro dunque abbiamo abbiamo sentiamo sentiamo sappiamo cutting edge con edge marise ok in ball contro stintiuri dove speriamo vincate seppellisca quella merda di ballo grazie grazie allora c'è il mistivico ospite di g style se poi di g style se omos contro rei e dominic misterio così a caso così a caso ma va bene e il titolo degli stati uniti in paio tra ziggler e priest no non è in paio no cazzata non è in paio vabbè comunque c'è damien priest contro vabbè ah è vero giusto mi sono ricordato stavo ripassando il rassegno alcuni articoli darby allen e coragid hanno avuto un breve scambio di fresh atene sui social ora mi dispiace darby allen ma ti hanno proprio seppellito allora io darby allen questa roba che ci ha avuto lui problemi riguardo abusi domestici mi sembra non vorrei distronzare è stato definito come abusive ma non è stato mai specificato in che senso ok e praticamente che aveva scritto che hey non sono solamente una gimmick un character cioè fare skate è comunque un'importante parte della mia vita dannazione cora non mi ricordo cosa le ha risposto ma l'ha disintegrato questo sicuramente questo me lo ricordo ah essere abusivo e queste cose qui non è parte della gimmick è parte della è una grande parte della mia vita as well quindi in una cosa del genere gli aveva detto cioè raga cora assurda cora incasato porca droga cora è la mia waifu in gergo pazzesco però è reale a quel gioco cora è pazzesco madonna vi ricorda tutti che cora stava in aw si per poco si è intossicata per poco ha lottato tre match come elena black madonna che nome elena senti il spettacolo oh eccolo ho trovati i miei amici i briscos volevo dire voi li conoscete i briscos i tag team dei briscos più o meno avete presente mai sentite si 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 li ho sentite quelli i finti mili da risdentati allora loro dovrebbero arrivare al 99% in aw come brody king che non so se lo conoscete sta in new japan stava il ring of honor e niente e non vi dico i pareri su un loro quasi certo arrivo lì però nel senso effettivamente non sono ex tab w ok va bene già qui possiamo farti un pollice in su all elite wrestling grazie a tony han però il fatto è questo brody king si vai alla canna del gas l'ho detta papale papale soprattutto i bris c'è i brody king e nì però gli briscos ragazzi sono finiti non so come in modo più gentile i briscos sono veramente la cosa più sovrautilizzata degli ultimi anni cioè la lingua fa ha campato la sua ha fatto campare la sua catamore tag team su questo su questi due sdentati ma dalla fondazione loro stanno in governor del 2002 20 anni hanno fatto campare dall'inizio la catamore tag team su questi due ora dopo 20 anni ma secondo te saranno allo stesso cioè li hai uccisi li hai uccisi loro non hanno mai fatto un pazzo tra virgolette non fanno schifo i briscos però nemmeno tutto sto granchio onestamente tipo preferisco gli usos per dirvi però vabbè no vabbè eri io impazzito in chat i briscos sono come geffardi virgola e poi in caps lock dei bolliti mamma mia che cantimeno rispetto effettivamente sono abbastanza bolliti però no facciamo un match con gli ftr dream match anche qui ragazzi basta dare in match ogni cazzo di macchina i w a parola sta avvenendo stuprata la parola dream match sta avvenendo stuprata da decerebrati che pensano che ftr contro briscos sia un dream match io non ho parole che ti posso dire ftr cambiamo god dangerous hackers peditti già questo già un po' meglio i briscos ma come dream match ma quando ma tu johnsina contro rendi è dream match quello lì assolutamente mai visto per streaming the line ma che cazzo comunque citando i god il loro dream match è cogliuso e non voglio avere rottura di coglioni in merito no vabbè ragazzi ho letto una cosa incredibile su instagram ma in questo momento praticamente c'è una pagina pagina molto importante infatti adesso mi fa vedere se è bugato instagram perfetto comunque la pagina si chiama real pro wrestling pensate un po' real pro wrestling ok ciao la bellezza di 300 follower best weekly tv show quale sarà possiamo immaginare difficile è pazzesca sta cosa è pazzesca dove va va ah italiana elite wrestling gli ha commentato con i moci del fuoco i moci della coppa gg c'è la stessa valenza di best che era best influencer a o su amirotv nel senso vabbè lasciamo perdere evitiamo di parlarne se non sbratto in live oddio allora allora e tra le altre cose oh eccolo lì eccolo lì il mio amico mio fratello pro wrestling italian fans ah pro wrestling italian fans cosa ha messo vediamo cosa ha messo tra i wrestler della settimana quando non so che fare io vado qui ragazzi sempre molto divertente io vado qui pro wrestling italian fans e praticamente che cosa succede questo vi mette gli attratti della settimana penso che possiate capire con il nome pro wrestling pro wrestling italian fans chi ci possa essere però voglio dargli un'occhiata allora ah no l'hanno bannato e l'hanno bannato bannato è un po' godo è un'anime plot twist ma la scoperta di questo precede istante dream match homo scontro centro il fuoco pagherei 20 euro per vederla per il intero dark elevation miglior show della settimana ovviamente quello di cui parlavo prima riguardo gogo il motivo per cui la live si chiama così per chi non avesse capito quello che è successo praticamente o gogo ha scritto fatto un tweet in character in cui dava in sintesi del nano di merda a jonathan gresham e la signorina consorte di gresham quindi jordan grace che simpatia ha rosicato come la merda e gli ha dato dell'altista ha detto che ha fatto dei commenti altisti assurda e quindi o gogo gli hai risposto tipo con la foto di una famiglia proamericana con un tizio che teneva il bambino in braccio giordino ha rosicato ancora di più e ha cancellato il suo account da twitter cristo santo allora non pensavo che aveva detto qualcosa io l'ho andato a vedere l'ho trovato alla fine ho scoperto che non è stato bannato ha cambiato proprio nome in real pro wrestling non ci posso scusa pro wrestling italian fans si chiama the evolution of pro wrestling italian fans infatti c'ha un quarto dei follower ma il tizio che seguiva la gato pro wrestling è proprio lui è proprio lui ragazzi allora vediamo io vedo due atleti della ddt in top 10 della settimana tre atleti della gcw tra i quali j brisco della ddt mannaggia il clero della ddt abbiamo un atleta e questo è incredibile della beyond wrestling matt makowski della ddt mannaggia il cazzo matt makowski e poi abbiamo due della new japan che sono quinto e secondo ovvero io e i romu takashi ma vai affanculo te quel bimbo e poi abbiamo ovviamente al terzo il primo posto adam pace e brian danielson e che cazzo allora invece guardando dovranno fatto una top 30 adesso vi dico in top 30 della settimana quanti atleti ww ci stanno va bene le leggo proprio alla svelta fammi indovina i numeri non ci sono nessuno ti do i numeri non ci sono non ci sono c'è cosa c'è aspetta aspetta chi c'è c'è pizio c'è le kosuke sato yuji okabayashi e naomi yoshimura evviva non mi sarebbe strano vedere von wegener o tra questi ma ci sta no allora però femminili femminili ci sarà qualcuno dai andiamo a dare un'occhiata no no e momento non c'è nessuno ma al ventitresimo posto quel maria è riferito a quella maria è possibile è possibile c'è un maria ma va indiano no 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 sappiamo tutti che di che maria stavore errico che c'è da dittima è un meme è un maniero sessuale ci segue qualsiasi ora non penso sia uno solo perché è fancy quindi però metti che sono due tre è comunque molto problematica la situazione fidati nel senso però se sono un gruppo importante se sono una dozzina di persone ti dico va bene ci sta ma se sono due tre persone ragazzi gravissimi stiamo è pro wrestling non sport entertainment dopo entra su discord bestie medesco per questa cosa ha detto Matteo ma non so apprezzo apprezzo comunque vorrei far notare come in quel ranking lì al dodicesimo posto c'è konami io spero sia l'azienda no è una dizia della stardom ma io spero non sia neanche l'azienda e poi non è nemmeno male scusate best character of the year ah della stardom ok segnalano il post best hardcore che è sta no ragazzi cos'è la violento ma che so io ma il mio soprannome nel podcast di rock e faccio per the ciclo wrestling è umino jack cioè allora io violento jack che cazzo è il mio alter ego ma stiamo scherzando l'iflyer dell'anno è il io del vichingo odio bravo lui è abbastanza io non l'ho mai sentito però che puttana è che nome di merda vabbè perché lì si prendono il nome del padre in luce in spagna guarda l'io del fantasma è carino come nome è un po' lungo però del vichingo e se il padre usava il vichingo che cazzo ti devo dire scusate allora scusate ti chiami franco eh ora io ci penso ora io ci penso ma è mai esistito ora lo conoscete voi è il santo che penso è il luciador più famoso di tutti i tempi sì 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 allora è l'ico del santo sarà mai esistito non credo eh lo penso andiamo a controllare best strong style masa kitamia della pro wrestling noa non lo conosco sì è il rio del santo kitamia lo conosco è bravo lo dici aspetta no più che altro allora il nome ce l'ho presente non so sicuro su chi sia è grossissimo è fortissimo è cattivissimo comunque sì esiste il rio del santo era il figlio ah sì lotta lotta anche nel match quell'assi in governables la terza serata del dom allora buoni tutti allora abbiamo eh il of the year keny omega insomma manager of the year don callis doppio insomma face of the year shingo takagi ci possiamo riflettere riguardo a questo dai eh sì però però beh sì eh insomma allora best tecnica zaxi per junior ok questa ci sto bravo vorrei far notare a matteo che su questa pagina se c'è davanti a questa pagina la da novembre del 29 novembre 5 dicembre ci sono stati ben due wrestler nel po' nei primi tre della DDT pazzesco ma la DDT ragazzi credo una delle più belle no che schifo che vergogna allora vogliamo vedere a novembre se ci sta una federazione strana no no aree pro new japan e ovviamente uno delle aw ci mancherebbe altro è di kingston qui invece best promotion of the month DDT porca troia di novembre ovviamente è sotto l'ice ribbon che cazzo è l'ice ribbon è tipo una promotion nipponica ma immaginatevi come ring name elico sono io finito di zocco la sono provata con nonna sempre allora vediamo un po' ah la 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 dragons game mamma mia la dragon gates la dragon gates ho spostato la s piaciuto poi dai qualche promotion strano oh eccola proprio è string guerriglia quanto che è successo il cerco poi è sparito non ho fatto nulla io questa ha detto che da vg esplosere non ho io son vivo son vivo eh ma no non ho mai sconnesso la webcam si ora sei diventato non nominava più la pwc bomb morti anche io spazzo di nuovo mi piace quando non abbiamo la webcam questo meme si può fare molto volentieri però con le webcam mi chiamo tipo quella di frankenstein junior che cavalli appena allora e vabbè gcw roba giapponese ovviamente non è un gioco è bello tono a big japan la big japan io non so che cos'è la big japan c'è hardcore wrestling stavo per dirlo mi sembra una federazione hardcore però è tutto hardcore tipo ccw esattamente no aspetta gcw gcw ok ultimamente la parte hardcore è andata un po' scemare ma l'avevi detto infatti però che cazzo vabbè dai non va bene la città per non me garba nel senso sti cazzi allora mi ricordo che avevano fatto anche quel match con i piragna se non sbaglio è vero sì 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 mi ha fatto lì stavo riguardando altre cazzate successe oggi ma ragazzi per chi non lo sa praticamente il match con i piragna si intende un match in cui c'è questa teca con dei piragna dentro con una tavola di legno per coprirla tu per vincere devi buttare il tuo avversario dentro i piragna e tenercelo per qualche secondo wow merda sinceramente chi è di merda e lo so che è un'idea di merda mi ricordo mi ricordo talmente un'idea di merda lo shark match il shark age match però quello proprio con le due persone fisiche dentro la gabbia no ragazzi dopo chi può rimanere un attimo vi faccio vedere a livello di strozza sai cosa mi ricorda a me mi ricorda il com'è che si chiamava quello che ha fatto big boss man e il tizio col cagnolino che tra l'altro è il prossimo pay per view che devo vedere oddio oddio quelle cazzo me lo sono già dimenticato a forgiven a forgiven e dov'è che a wrestlemania 15 hanno fatto l'insel big boss man si prima con quella c'è stato un l'insel di merda tipo no che praticamente ha vinto dager e ha fatto in picca boss man sulla gabbia e quello dell'inhibit è proprio il frumel no no l'ho visto di recente il frumel era con al snow ok con al snow si per il titolo e gli avevano il pepper il cane gli avevano ammazzato giusto giusto ok avevo fatto un po' di confusione ok ho ritrovato un articolo leggendario michele posa attacca Maurizio Merluzzo su Facebook mamma quanto riso quel giorno quanto riso che bello io il discord della SW era impazzito era impazzito cosa proprio piovere mamma mia michele ti voglio bene madonna santa comunque a parte questo abbiamo quasi finito ragazzi cinque minuti direi di staccare tanto abbiamo fatto chill quarantina di minuti si è detto siamo quasi a 40 però io a parte questa roba di real pro wrestling che mi ha fatto molto ridere stavo cercando qualcosa di ancora meglio perché praticamente eccolo qui in Italia in Elite Wrestling lui aveva messo ovviamente i suoi award io ormai sì i personaggi non dico pubblici ma un po' conosciuti di solito non gli dico il nome in live perché tante torture di cazzo non le voglio però io queste facenine sì queste facenine i ragazzi le adoro spizzarle parlarne memarci sopra sempre bello allora eccolo là oh huk non mi fa schifo mi piace è molto pulito nelle mosse solo che veramente fratello se ci stai seguendo metti su massa ti aiuterà tantissimo adesso lui ha scritto devi mangiare come un treno e allenarti 25 volte al giorno detto questo già come parti che è la terza volta che sai perché io l'avevo io l'avevo già spiegato io non riesco a prenderlo sul serio così cioè mi sembra tanto uno youtuber dopo lo scandale e crypto scam che si allena non ce la faccio a prenderlo sul serio mi spiace mi è difficile il problema è di fondo è che nell'ultima puntata se hai parlato evitiamo di ripetere le cose se vi interessa sapere la nostra suk se hai detto nell'ultima puntata sta su youtube c'è tutto l'archivio però boys scrivere dopo 5 minuti di match ora gli dico con fuego del sol a me sing debut a new star is born te sei un ritardato te sei un ritardato non è bannabile quindi lo dico però meglio non ridirlo più di due o tre volte l'hai detto hai detto già due no no io sto usando i bonus so come funzionano i toast di Twitch non ti preoccupare però sei proprio veramente meno moto mentale no un decerebrato una simia una simia una simia allora che puoi dire new star is born dopo che tre mesi che ti fa solo bei match non ti sbaglia quasi mai una mossa complicata perché sai quelle più semplici ragazzi bronbreaker bronbreaker no bronbreaker è l'eccezione cazzo dai bronbreaker è una stella splendente a livelli inumali come Carmelo e yes che è un po' meno ma sempre molto molto interessante come Tony D'Angelo che è un pochino meno però per il member lo sosteniamo esatto Grayson Waller Grayson Waller Gaza Grayson mi gasa Grayson prima mi faceva abbastanza schifo da quando ha fatto il Wargames lo sto apprezzando di più di più molto bravo sul ring e grazie al Wargames ora finalmente sta diventando il top hill almeno c'è Tolto Carmelo che vabbè nel senso è campione ok belle le gif con le le signe su telegram vabbè il link dell'articolo dopo se me lo ricordo te lo mando te lo mando il pezzo di posa e il minuzzo è stato fantastico allora che poi è arrivato ovviamente l'abbiamo scritto noi ok cosa è successo dopo ora vado a ricercarlo perché noi si è fatto un altro articolo che ha chiuso Giacomo Strigi ti prego dai oh mi si è finito tanto Strigi no veramente non ne ho più poveri tanto ora vai a dormire scappi dal discorso eccolo lì Michele Posa chiude la vicenda con monizio perluzio io non so chi ha scritto questa cosa ma non mi è parso che dovesse cosa avrà scritto ragazzi basta fine che è veramente c'è il video il video sfogo da youtube adesso basta farlo io che è sta roba questo video non lo volevo fare sfogo epico finito male ragazzi era tutto un prank allora come fossero i youtuber senza sfoghi allora basta abbiamo finito siamo a 40 arizo entra in live con Michele Posa ma scappa quando con la thumbnail mail però ci va la thumbnail clickbait stile what culture con tipo la faccia di Posa inquadrata tipo il cerchio rosso dietro di lui che inquadra il mu che cerco su un muro è bello lo so voglio subito adesso Posa Posa fai qualcosa di utile nella tua vita fai ste cose fai ste cose sto scherzando ovviamente Michele è grande perfessioni però quello che volevo dire è che abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta 40 minuti come si è detto noi ci rivediamo giovedì venerdì quasi sicuramente vediamo se pomeriggio tardo o sera voi seguite instagram nelle storie vi mettiamo sempre tutto il menu oggi ho scritto just chatting ci ho messo 7 aggettivi diversi perché questo è stato e il e il timer quindi instagram è importante chi è papimemes tra poco si mette il meme di day one ovvero takain e noi vi diamo appuntamento alla prossima grazie a chi ci ha seguito quindi nicola enrico che ci ha seguito fino a ora e anche a quel fenomeno del mio fratello che mi ha chiesto della nazlock di pokemon ricordiamo che questo è un podcast sul vero pro wrestling che schifo lei è la wwe e lei w è il futuro e la rivoluzione quindi signori vi diamo appuntamento alla prossima grazie a tutti e buonanotte 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 grazie a tutti